Buongiorno, incominciamo questa lezione a parlare in maniera un po' più approfondita di React e quindi dei suoi elementi di base e poi cominceremo a sviluppare un pezzettino di applicazione React, perlomeno nella parte più semplice questa lezione sarà divisa in due parti, una prima parte in cui andremo a parlare sostanzialmente degli elementi e dei componenti React e nella seconda parte parleremo di come mettere insieme il tutto per creare una prima semplice applicazione React successivamente affronteremo nelle lezioni successive argomenti più impegnativi come la gestione per esempio dello Stato che cominceremo a intravedere però sarà affrontata più nel dettaglio nel seguito, così come la gestione degli eventi e così via questo è un overview concettuale di come funziona React per quanto riguarda i vari pezzi coinvolti abbiamo gli elementi, i componenti e poi l'albero degli elementi tutto parte da questo metodo di React, il render che noi vedremo in queste lezioni sempre sul React DOM che è l'implementazione React che è quella che utilizziamo all'interno delle pagine web che quindi di fatto alla fine va a manipolare il DOM che è quello presente all'interno del browser per la visualizzazione ma forse alcuni di voi sanno che React, in particolare quello che si chiama React Native è anche possibile utilizzarlo su altre piattaforme quindi in quel caso ovviamente questa parte sarà adattata alla piattaforma corrispondente il metodo render sostanzialmente ci consente di dire che vogliamo renderizzare, quindi calcolare come viene visualizzato l'elemento un certo elemento, passato qui come parametro che deve essere inserito all'interno di un certa posizione nel DOM in questo caso, e quindi di un certo nodo del DOM come sapete avremo poi delle sintassi più semplici che abbiamo già intravisto nella precedente lezione di introduzione a React però prima di andare a vedere tutti questi meccanismi più semplificati vogliamo capire bene come funziona il tutto per poter sempre essere coscienti esattamente di cosa sta succedendo all'interno della nostra applicazione in particolare sapete che sostanzialmente quando creiamo lo scheleto dell'applicazione React c'è già qualcuno che di fatto invoca questo render sostanzialmente sull'elemento radice del nostro albero che contiene tutto quello che vogliamo visualizzare all'interno della pagina passando alla seconda parte della slide qui vedete come possiamo creare gli elementi quindi abbiamo sostanzialmente due modi un metodo di React che è il createElement che di nuovo abbiamo già intravisto nell'introduzione a cui passiamo tre proprietà il tipo dell'elemento che vogliamo creare che può essere un semplice elemento di HTML quindi già predefinito piuttosto che un componente di cui diciamo tra un istante con le sue proprietà e i suoi eventuali componenti o elementi figli abbiamo due sintassi per fare questa operazione che sono sostanzialmente diciamo quella potremmo per così dire manuale che è l'invocazione del metodo ovviamente scomoda e quella diciamo più comoda dal punto di vista della scrittura dello sviluppo che è quella del cosiddetto JSX che vedremo un po' più nel dettaglio nel seguito di queste slide e che sostanzialmente ci consente di scrivere in una maniera molto simile come scriveremmo codice HTML quindi col type che quindi diventa una specie di elemento HTML con le sue proprietà che di fatto sono un attributo e con i figli gli elementi figli che sono sostanzialmente inseriti all'interno del aperto e chiuso tag quindi sostanzialmente entrambe questi sintassi sostanzialmente ritornano un elemento quello che in React viene chiamato elemento che è proprio un oggetto di tipo elemento che poi viene renderizzato appunto dalla chiamata render sull'elemento stesso e poi questo come sapete e come ribadiremo oggi verrà chiamato ricorsivamente su tutti gli elementi dell'elemento tree in maniera da visualizzare tutto quello che c'è contenuto all'interno dell'albero degli elementi e ovviamente visualizzarlo possiamo tradurlo nel DOM che poi viene visualizzato dal browser il type può essere un tipo appunto di base ma può anche essere quindi un elemento HTML di base ma può anche essere un elemento più complesso che è quello che in React viene definito componente component e abbiamo già intervisto l'altra volta che abbiamo diverse maniere per definire il componente quindi che può essere definito tramite funzione ma anche tramite questa sintassi che è forse un po' più semplice che diamo un nome che inizia per la lettera maiuscola questo è importante secondo la convenzione di React perché questo consentirà di distinguerlo dagli elementi HTML standard diciamo quando quando l'utilizzo nella sintassi di JSX comunque estende il React.component e deve sostanzialmente fornire l'implementazione del metodo render che deve dire cosa fare per far visualizzare quel componente quindi un componente deve definire questo metodo render un componente può anche essere predefinito nel senso che nel momento in cui arriviamo agli elementi HTML predefiniti div, span piuttosto che tutti i vari altri a, l'ancora img e tutto quello che vi potete immaginare e questo ovviamente si sa come diciamo renderlo in HTML perché ovviamente predefinito quindi il browser nel momento in cui lo inseriamo nel DOM sa come crearlo i componenti invece definiti da noi devono darci un modo di essere presentati quindi renderizzati tramite il metodo render che può essere il modo in cui il modo il modo è ritornare un albero di elementi e questi elementi possono potenzialmente essere anche tanti appunto organizzati in forma d'albero proprio come lo sono nella organizzazione dei tag HTML quindi con la possibilità di inserire elementi figli all'interno dell'aperto e chiuso tag però in questo caso sostanzialmente stiamo dicendo che ritorniamo un qualche cosa che a sua volta può contenere degli elementi figli nell'albero degli elementi andiamo quindi a vedere che cosa sono gli elementi React che quindi sono i mattoncini con i quali costruiamo descriviamo anzi perché la costruzione è fatta da React descriviamo il contenuto di una pagina web gli elementi un elemento è un oggetto che descrive un'istanza di componente all'interno di React quindi può essere un componente oppure direttamente un nodo DOM con le sue proprietà un nodo DOM nel caso in cui appunto abbiamo direttamente necessità del nodo DOM come prima vedevamo l'esempio del div piuttosto che span piuttosto che b piuttosto che a e così via se abbiamo già l'elemento HTML corrispondente va bene così altrimenti creiamo un componente creiamo un componente che a sua volta dirà come farsi visualizzare e questa visualizzazione sarà poi composta da un albero di altri elementi e questi elementi a sua volta possono essere o componenti o elementi DOM quindi direttamente elementi predefiniti nel DOM un react element quindi questa classe è una rappresentazione di un elemento DOM nel virtual DOM ricordate che abbiamo detto che c'è questo virtual DOM che è un qualcosa di mappato nella memoria di React e che poi viene tradotto da React nel DOM facendo le modifiche necessarie alla sua visualizzazione all'interno del DOM vero del browser però all'interno del virtual DOM abbiamo questi react element quindi non sono gli element HTML del DOM ma sono i react element il react element contiene solamente informazione riguardo a qual è il tipo del componente quindi quelle tre parametri che abbiamo visto prima quindi questi tre che visti nella sintassi di javascript ovviamente sono più evidenti e sono forse un po' meno evidenti nel JSX per questo lo sottolineo quindi contiene informazione relativa a che tipo di componente è è un componente che abbiamo definito noi oppure è un componente oppure è un componente predefinito e quindi sostanzialmente è direttamente mappabile su un tag HTML poi ci sono le sue proprietà per esempio che so proprietà che possono aiutarci alla presentazione colore e così via piuttosto che altre proprietà che possono servire alla gestione del componente stesso e poi un riferimento agli elementi figli che sono contenuti all'interno dell'elemento stesso eventualmente anche elementi di tipo testo perché nell'HTML sapete che gli elementi figli possono anche essere elementi di tipo testo per esempio abbiamo semplicemente una scritta da far apparire e l'elemento figlio del span piuttosto che B e così via sarà il testo quindi notate bene che non è un'istanza di un pezzo di pagina quindi non è un elemento DOM ma è una descrizione che ci dice come costruirla sul quale React andrà ad agire sostanzialmente utilizzando il metodo render per andare a capire che cosa deve essere visualizzato e quindi crearsi prima la sua rappresentazione nel virtual DOM e poi col suo algoritmo andare a capire cosa c'è da modificare nel DOM vero quindi i React Elements non offrono alcun metodo che sia direttamente richiamabile del nostro codice quindi di default non c'è niente che dobbiamo implementare se non il metodo render che è appunto no scusate questo è il componente gli elementi non appunto sono la rappresentazione semplicemente quindi sono questo oggetto che viene usato internamente da React e che come abbiamo visto può essere creato esplicitamente quindi per create element diamo il tipo il tipo che può essere un nodo DOM quindi sostanzialmente un tag HTML e in questo caso lo identifichiamo tramite una stringa che corrisponde al nome del tag tutto in minuscola per convenzione ma è importante perché poi appunto React distinguerà nel JSX per riuscire a capire quali sono i componenti quali sono i tipi predefiniti gli elementi predefiniti e quindi se è una stringa è appunto un nodo DOM sicuramente oppure possiamo anche inserire un componente un riferimento a un componente React che come sappiamo può essere definito sotto forma di classe che è una cosa forse più comune ma anche sotto forma di funzione e che ovviamente viene definito da noi da noi che sviluppiamo il codice React passando alle proprietà le proprietà sono semplicemente un oggetto JavaScript che contiene una serie di proprietà appunto che sono eventualmente gli attributi DOM per il caso dei nodi DOM quindi avete un A anchor e avrete un href qualcosa se volete inserire questo attributo come di solito succede un img quindi un'immagine src uguale a qualcosa e così via quindi dentro le proprietà possono stare anzi stanno gli attributi del DOM di quel tag piuttosto che altri valori arbitrari nel caso in cui abbiamo dei componenti React perché in quel caso definiamo noi che cosa sono le proprietà e notate bene che all'interno dell'oggetto come sempre possiamo annidare qualsiasi tipo di struttura quindi anche arrays e oggetti quindi proprietà uguale meglio due punti nella città se JavaScript un certo oggetto piuttosto che un array e così via queste proprietà sono accessibili nel body del componente per esempio quando scriviamo l'implementazione del metodo render tramite il this.props e sono rappresentati come proprietà dell'oggetto quindi non sono stringhe come gli attributi HTML ma sono proprietà dell'oggetto appunto di questo oggetto props e con una piccola attenzione bisogna fare attenzione perché ci sono alcune parole che sono parole chiave in java scritte quindi non possono essere usate così come perché così come sono altrimenti ci darebbero problemi diciamo nella gestione del codice e quindi quando vorremmo definire l'attributo class del DOM useremo invece class name quando vogliamo usare l'attributo for per esempio delle label useremo HTML for basta ricordarsi sostanzialmente questi sono i due casi più comuni di non usare class e for perché altrimenti il java scritto non funziona più terzo elemento delle create element sono i children che sono sostanzialmente un nodo react che può essere o direttamente una stringa o un numero e allora in questo caso sostanzialmente è quel testo che è un nodo DOM che dicevamo prima e che quindi diciamo può essere inclusa all'interno del tag che stiamo creando piuttosto che un elemento un react element che a sua volta può contenere un albero di elementi o piuttosto un questo interessante perché tra l'altro verrà poi usato ampiamente anche un array di nodi react e questo è un caso che può presentarsi per esempio nel momento in cui abbiamo pensate un tag unordered list una lista con i suoi item li list item bene questi children potrebbero semplicemente essere un array di nodi che sono sostanzialmente i list item e quelli che vogliamo far comparire ovviamente i figli sono degli elementi che saranno annidati nell'elemento padre che devono essere renderizzati inseriti nel virtual dom e poi nel dom come figli dell'elemento stesso quindi tra il tag aperto e chiuso dell'elemento stesso vediamo un esempio quindi quando vogliamo usare gli element objects supponiamo di voler creare un bottone ragionando in termini di nodi dom vorremmo avere un button che ha una serie di proprietà tipicamente delle classi che sono quelle che concentrano di dare lo stile tramite un css per esempio usando un frame come bootstrap e così via quindi quasi sempre avremo un valore per le classi per la classe e poi dei figli per esempio un testo che sostanzialmente includiamo in questo caso in un tag di tipo b per dire che lo rendiamo bold quindi se dovessimo descrivere un elemento in termini di nodi dom dovremmo usare tutta questa sintassi che ovviamente non è così comoda quindi se appunto dovessimo descrivere tutto in termini di oggetti non è il massimo nel momento in cui usiamo l'approccio di usare un componente react forse qualcosa si semplifica nel senso che sostanzialmente dovremmo dire che l'elemento è composto in questa maniera cioè ha un tipo button e ha delle proprietà che sono sostanzialmente il colore e dobbiamo anche dire tra le proprietà ci sono anche i figli e sostanzialmente vogliamo dire che c'è un unico figlio che è appunto un testo che è l'ok e poi ci sarà il metodo render che si si preoccuperà poi di diciamo di dare un aspetto a questa informazione che è contenuta nel componente react come è scritto qui sotto non creeremo mai elementi come oggetti che sia sotto forma di diciamo nodi DOM piuttosto che di componenti react ma andremo sempre a usare il create element oppure che cosa appunto di nuovo non comodissima oppure molto molto meglio il jsx questo è quanto viene fuori dalla descrizione precedente e quindi se facessimo rendering di quello che abbiamo scritto prima avremo in html un button con un class come dicevamo e poi con un elemento b che ha un children che ha ok che quindi è un semplice testo nel momento in cui lo facciamo con react component sostanzialmente abbiamo che il framework ci crea diciamo lui autonomamente gli oggetti corrispondenti quindi type button con le sue proprietà che diciamo deriveranno da del codice nel metodo render che sostanzialmente trasforma questa proprietà color in una serie di valori per l'attributo class e poi come children avremo del codice che magari ci dice di inserire l'elemento b con delle proprietà la proprietà children ok per dire che all'interno di b dovrà essere contenuto il testo ok dopodiché questa descrizione in termini di oggetti viene sostanzialmente presa da react il quale chiede al componente button di fare render di se stesso il quale appunto genera un albero di elementi che sostanzialmente si ripiazzano se stesso quindi il type button qui non c'è più è diventato diciamo un elemento HTML con dei figli sui quali a loro volta verrà richiamato il metodo render sempre che non siano già degli elementi diciamo predefiniti in HTML e che quindi per i quali non abbiamo definito alcun metodo render particolare e questa operazione va avanti appunto fino a che non abbiamo solo più non abbiamo non restano solo più nodi di tipo DOM e quindi sappiamo mapparli direttamente sui nodi DOM all'interno del browser e quindi cioè React sa come mapparli direttamente sui nodi DOM del browser ecco una serie di convenzioni che è importante assolutamente importante rispettare perché tra l'altro appunto in alcuni casi sono non solo convenzioni ma anche obbligatorie come il caso del inizio con la maiuscola per i nomi dei componenti React e quindi gli elementi del DOM sono sempre scritti in lettera minuscola in lettere minuscole quindi come abbiamo visto negli esempi div p li img e così via mentre i componenti React iniziano sempre con la lettera maiuscola questi sono tutti i nomi definiti da noi sviluppatori warning button login form eccetera diciamo si usa spesso il camel case senza mettere i trattini ovviamente perché devono essere identificatori validi in javascript e per diciamo distinguere varie parole ma più che altro per nostra comodità l'importante è che iniziano per la lettera maiuscola e i due tipi di elementi quindi elementi DOM e componenti React sostanzialmente possono essere mischiati annidati e così via composti in combinati in qualsiasi maniera notate bene che non è che estendiamo dei componenti React per fare dei sottocomponenti React li componiamo nel senso che diciamo che ci sono degli elementi figli come nell'albero dell'HTML ci sono degli elementi figli che diciamo sono parte di un sono collegati a un certo componente ma non lo stendiamo con il meccanismo dell'ereditarietà delle classi che tra l'altro poi sapete in javascript abbiamo speso un po' di tempo a spiegarlo è anche abbastanza particolare perché usa cioè non abbiamo il concetto di classe vera ma c'è tutta questa questione degli oggetti di cui prototipe eccetera quindi sarebbe difficile da utilizzare ecco e gli alberi di elementi ovviamente corrispondono a porzioni del virtual DOM questo però è diciamo forse la cosa più evidente nel senso che l'abbiamo visto quindi nel momento in cui definiamo i figli questi figli vengono poi messi come elementi all'interno del tag del componente nel quale sono presenti vediamo ora qualcosa del JSX che abbiamo intravisto però adesso dettagliamo meglio che è sostanzialmente un metodo un po' più umano per descrivere gli alberi di elementi React JSX sta per JavaScript Syntax Extension quindi è una sintassi alternativa per quello che abbiamo visto prima React Create Element se noi sostituissimo il tutto con React Create Element eccetera funzionerebbe tutto ma sarebbe estremamente pesante da scrivere scomodo e quindi diciamo gli sviluppatori di React hanno pensato a questa sintassi alternativa che ci consente di sostanzialmente riuscire a gestire un po' meglio la scrittura l'annidamento dei componenti e così via questa sintassi alternativa non è nient'altro che la possibilità di inserire dei frammenti XML e vedremo perché XML all'interno del codice JavaScript XML perché abbiamo una sintassi molto stretta molto più di quanto sia in HTML perché tutti i tag devono essere chiusi quindi se lo apriamo come in questo caso my button poi deve esserci la chiusura nel my button oppure self-closing nel senso che non avendo no di children no di figli devono essere chiusi in questa maniera mentre invece in HTML possiamo permetterci di non chiudere qualche tag tipicamente per esempio il tag img spesso non viene chiuso così come alcuni altri tag e il browser è tollerante in questo senso e capisce comunque quando è terminato il tag qui invece se non facciamo in questa maniera si genererà un errore nel momento in cui questa sintassi alternativa deve essere tradotta in codice javascript da chi viene tradotta da Babel che è questo transcompilatore che sostanzialmente prende la sintassi e scriverà per noi diciamo le chiamate corrispondenti react element quindi sostanzialmente se prendiamo questo esempio scritto appunto in jsx verrà tradotto in questo che vedete qui a destra quindi noi scriviamo qualcosa che assomiglia molto al codice html a cui siamo abituati e che è anche relativamente semplice da scrivere quindi my button è un componente react con una serie di attributi e anche proprietà quindi sia gli attributi che proprietà e li possiamo scrivere diciamo nella maniera in cui siamo abituati e poi eventualmente con un contenuto che sono gli elementi figli e quindi in questo caso solo testo ma potrebbero anche essere elementi più complessi altri componenti e così via quindi dobbiamo scrivere il nome dell'elemento se è un elemento diciamo primitivo quindi un elemento dell'html piuttosto che il nome del componente le varie proprietà e poi gli elementi figli piuttosto che un contenuto testuale questo viene tradotto direttamente da Babel in maniera diciamo trasparente per noi in react create element e creerà un elemento che ha un certo tipo una certa serie di proprietà e un contenuto in termini di figli elementi figli quindi sono i tre parametri che abbiamo visto prima del create element la sintassi jsx ci consente di usare appunto questi tag aperto chiuso oppure il tag si chiude diciamo da solo dovunque è possibile inserire un'espressione javascript perché alla fine viene tradotto in un'espressione javascript viene tradotto in react appunto create element e così via quindi è valido usare questa sintassi non solo nei componenti ma anche all'interno di tante altre posizioni nel codice per esempio dove dobbiamo assegnare dei valori a degli array a degli oggetti e così via perché alla fine non è nient'altro che il risultato diciamo del react create element quindi sono dei react element e quindi tra l'altro possono essere anche racchiusi tra le parentesi tonde per chiarezza nel caso in cui insomma diventi lungo oppure il codice può diventare non troppo chiaro perché alla fine non è nient'altro che un'espressione javascript non una volta che viene tradotta notate bene come sottolineavo anche prima sempre usare il tag chiuso se non ci sono fidi perché altrimenti abbiamo un problema ci verrà poi fuori un errore quindi nel momento in cui usiamo questi tag con la sintasse jxx notate bene che poi verrà tradotto in codice javascript e questo vuol dire che dobbiamo avere nello scope tutto il necessario per far funzionare quel codice javascript quindi in particolare fu in questo caso il nome del tag deve essere nello scope quindi ho dichiarato lì ho importato nel file e anche react deve essere in scope anche se non lo scriviamo da nessuna parte perché in realtà questo viene tradotto come react.createelement aperta tonda custom button ok quindi vuol dire che custom button per esempio deve essere importato oppure definito come dicevamo prima e react sicuramente deve essere importato anche se non compare quindi magari all'inizio questo può essere un po' strano ma se pensate come viene tradotto in codice javascript quello che scriviamo dovrebbe esservi chiaro e poi ovviamente ci abitueremo facilmente a questo aspetto notate anche che il tag jsx deve essere un identificativo valido cioè non può essere un'espressione non possiamo scrivere un'espressione javascript è vero che viene tradotto in codice javascript però in quella specifica posizione cioè l'identificativo del tag non può essere un'espressione quindi possiamo usare del codice diciamo per determinare se vogliamo un tag piuttosto che un altro come per esempio inserirlo in un if piuttosto che assegnare l'identificativo del componente che ci interessa ad un terzo identificativo e poi inserire questo come tag nel jsx questo è possibile però non potremmo scrivere minore props argent punto interrogativo argent button due punti normal button questa cosa non si può fare nella parte relativa al tag in jsx quindi c'è solo da ricordarsi questo specifico aspetto mentre invece poi vedrete che per il resto nelle properties eccetera potremmo scrivere anche espressioni javascript quindi particolare nelle espressioni che determinano un attributo jsx che sono tutti convertiti in proprietà del react element avremo che gli attributi di tipo stringa diventano delle proprietà che hanno un valore di tipo stringa nell'oggetto delle properties e quindi nel props altri oggetti possono essere specificati anche tramite espressioni javascript e come lo facciamo bene usiamo questa sintassi cioè sostanzialmente racchiudiamo in parentesi graffe l'espressione javascript quindi per esempio guardate questa per esempio è un'espressione javascript cioè 2 è un valore in javascript e quindi un'espressione in javascript valida e verrà presa calcolata e inserita come valore della proprietà piuttosto che true false vedremo cosa serve poi tra un istante quindi se c'è bisogno possiamo usare anche i valori booleani piuttosto possiamo anche usare del codice come dicevo poco fa quindi tipicamente il codice è non troppo complicato perché altrimenti la leggibilità diventa difficile però per esempio un valore piuttosto che un altro sulla base di un certo test di una certa condizione questo si si fa tipicamente per dire appunto il colore ha valore che dipende da warning level e se è uguale a debug mettiamo un grey altrimenti red quindi qualsiasi espressione javascript è accettata e ovviamente diciamo da usare con moderazione per non diciamo avere un impatto eccessivo sulla leggibilità del codice veniamo agli elementi figli all'interno ggsx il contenuto tramite il tag aperto e chiuso presente tra il tag aperto e chiuso è passato come la proprietà speciale props children che è il modo in cui manteniamo riferimento ai children all'interno del nostro componente tale contenuto può essere sia una stringa per esempio appunto guardate il primo caso my component hello world e quindi questa è appunto il children è semplicemente una stringa e quindi avremo finito qui oppure possono essere ulteriori elementi elementi jsx annidati come in questo caso che so my first component my second component e così via se scriviamo in questa maniera sostanzialmente qui verranno fatti poi il react create element eccetera quindi tradotto in questo senso piuttosto che può essere qualsiasi espressione javascript valida piuttosto che può essere un'espressione javascript che ritorna un array di elementi jsx questo è interessante anche perché verrà spesso usato e per esempio nell'esempio in cui facevamo prima c'è la nord red list con una serie di elementi non scriveremo for eccetera eccetera ma avremo un'espressione javascript che ci ritorna direttamente un array di elementi jsx che saranno i nostri o lì direttamente dell'html oppure dei componenti incaricati di renderizzare di renderizzare ogni list item può anche essere una una funzione javascript da usare come callback ma questo lo vedremo meglio più avanti quando parliamo poi di come gestire gli eventi e così via oppure qualsiasi altra cosa che il componente sia in grado di capire e ovviamente renderizzare in maniera appropriata poi quindi all'interno del metodo render di agganciare e poter visualizzare correttamente le espressioni che possono essere usate come figli in jsx sono sostanzialmente quelle che vedete qui quindi per esempio come vedete qui possiamo scrivere abbiamo messo la tonda diciamo per chiudere il tutto questa è un'espressione jsx in cui abbiamo messo come figli e lo vediamo che sono figli perché sono dentro il tag aperto e chiuso quindi ci sono le parentesi graffe abbiamo messo un'espressione javascript logged in user punto interrogativo se è vero metteremo user menu altrimenti login link ovviamente tag che sono sempre chiusi o li chiudiamo noi esplicitamente quindi mettendo ulteriori figli oppure chiusi diciamo direttamente qui e notate che essendo che il jsx viene tradotto in codice javascript sostanzialmente noi possiamo annidare tranquillamente del jsx dentro il javascript che è dentro di nuovo del jsx e cosa via è totalmente legale e funziona teniamo solo conto di una cosa ossia che gli elementi cioè le espressioni che daranno luogo a un valore undefined null oppure di tipo boolean che sia vero o falso non sono renderizzate e questo è molto utile per scrivere espressioni come quella che vedete qui sotto per esempio se noi vogliamo mostrare in maniera condizionale un qualche chiamare del codice o diciamo mostrare appunto inserire un componente dei componenti in maniera condizionale possiamo scrivere espressioni di questo tipo quindi in questo caso andiamo a testare se lo user level è uguale ad admin se viene fuori false non eseguiremo la funzione a destra e quindi tutta l'espressione avrà valore false e quindi viene semplicemente presa buttata via se però valore true allora andremo a richiamare render admin menu che deciderà che cosa ritornarci quindi magari dei componenti ulteriore oppure se non so per qualche motivo non ci ritorna null undefined null eccetera e qui verrà eseguita la funzione ma non verrà inserito nulla quindi questo dobbiamo ricordarcelo semplicemente perché ci può ci può venire comodo diciamo per scrivere meglio in maniera più leggibile le nostre espressioni jsx ancora sui diciamo su jsx qualche indicazione ci sono degli attributi html un po' particolari che non hanno un valore cioè nel momento in cui sono presenti attivano un certo comportamento e quando non ci sono ovviamente non lo attivano per esempio pensate alla lista di opzioni option selected selected se c'è vuol dire che è selezionato se non c'è non è selezionato piuttosto che input disabled se c'è vuol dire che non si può editare altrimenti no in jsx non si può suscrivere direttamente in questa maniera ma dobbiamo assegnare un valore ed è qui che ci viene comodo avere quella sintassi aperta graffa e dentro scriveremo true per dire che c'è e se scriviamo false oppure calcoliamo un valore che dà valore false è come se non avessimo inserito poi il valore selected in questo caso all'interno del codice html quindi non sarà selezionato quindi attenzione appunto false or nothing o niente per l'assenza dell'attributo altrimenti dobbiamo assegnare un valore true direttamente o come risultato di un'espressione commenti non si possono inserire in jsx cioè la sintassi dei commenti html non è valida quindi se proprio avete necessità di inserire un commento fatelo non è tanto bello nel senso peggiora la leggibilità è perfettamente funzionante ma peggiora la leggibilità e si può fare aprendo una graffa e quindi dicendo di inserire un'espressione javascript e in javascript abbiamo i nostri commenti con il solito slash asterisco asterisco slash nomi degli attributi DOM abbiamo già sottolineato la questione che bisogna fare attenzione sempre abbiamo visto classe eccetera quindi qui la vediamo in maniera più completa ci sono dei i nomi degli attributi sono tutti diciamo con questo camel case che vuol dire che ogni parola ha l'iniziale maiuscola eccetera la prima questi sono gli attributi per esempio in html per dire on change on click e così via l'html non è case sensitive su questa cosa però invece in jsx dobbiamo fare attenzione e dobbiamo per forza scriverlo in questa maniera anche perché è codice javascript quindi è codice e quindi è case sensitive in questo caso quindi bisogna sapere come scriverlo ecco una cosa che vale la pena di sottolineare che l'attributo di tipo sta l'attributo del l'attributo style accetta un oggetto e non una stringa quindi style non possiamo dire semplicemente uguale aperta graffa stringa punto virgola eccetera come faremo in html ma dobbiamo mettere un oggetto quindi la prima graffa quella rossa apre la possibilità di scrivere codice javascript e la seconda graffa quella blu apre un oggetto dentro il quale possiamo dare le proprietà css quindi color e così via tutte le varie proprietà che sono margin top scritto però in camel case quindi in questa maniera due punti con il loro valore e il loro valore effettivamente in questo caso si è una stringa quindi i valori sono appunto i valori css rappresentati sotto forma di stringa abbiamo codice javascript nel gsx e quindi possiamo anche permetterci di usare alcuni costrutti che abbiamo già visto come per esempio quello quello dello spread quindi i tre puntini che possono venire comodi spesso nel momento in cui dobbiamo passare tutta una serie di elementi in particolare proprietà ad un componente quindi nel momento in cui che so abbiamo le nostre proprietà all'interno di un oggetto in questo caso diciamo welcome e c'è la proprietà message e recipient diciamo senza la nostra sintassi di spread dovremmo scrivere esplicitamente in questa maniera msg uguale aperta graph welcome message e così via quindi tutta questa diciamo complicazione che può essere invece risolta molto semplicemente in questa maniera quindi le properties dell'oggetto welcome in questo caso sono spread quindi sono diciamo mappate potremmo dire in italiano come sulle proprietà individuali con lo stesso nome del componente quindi è come se avessimo scritto qui la stessa cosa qui a sinistra questo viene in particolare utile nel momento in cui abbiamo tutta una serie di proprietà che vogliamo passare semplicemente ai componenti figli quindi per esempio abbiamo una certa proprietà che vogliamo intercettare e abbiamo invece una serie di altre proprietà che vogliamo semplicemente passare agli oggetti figli quindi per esempio nel caso in cui che so avessimo queste proprietà abbiamo le props tutte contenute appunto in props e vogliamo usare una di queste potremmo usare questo meccanismo dello spread a sinistra che sostanzialmente ci estrae da props la proprietà che si chiama che ha il nome kind e tutte le altre vengono lasciate qui dentro in other e quindi noi possiamo prendere la proprietà che ci interessa o le proprietà che ci interessano lasciando tutte le altre fare il nostro processamento che desideriamo per esempio decidere che c'è una certa proprietà che dobbiamo processare quindi poi questa la teniamo separata quindi class name uguale qualcosa quello che decidiamo noi e tutte le altre le passiamo di nuovo con questa sintassi spread che abbiamo visto poco fa inalterate al quindi al componente o elemento figlio quindi questo è un piccolo esempio di come è possibile diciamo gestire le proprietà in maniera un po' più semplificata traendo vantaggio dall'operatore spread di javascript all'interno del jsx ma abbiamo detto che il jsx non è in realtà che è un meccanismo diciamo di traduzione da una sintassi semplificata appunto al javascript quindi ovviamente tutto ciò che è valido in javascript può essere utilizzato quindi tutte le proprietà al di fuori di kind in questo esempio sono passate all'elemento figlio button e quindi diciamo facciamo una specie di pass through diciamo di passaggio attraverso il componente verso gli elementi figli e questo ci può tornare utile perché si farà spesso in realtà un piccolo reminder mi raccomando attenzione che il attributo classe for hanno due nomi differenti perché sono appunto le parole chiave di javascript e ci sono tutta una serie di html entities non supportate in jsx però c'è comunque un meccanismo per inserirle se necessario però in caso di necessità andate a consultare la documentazione inutile che spendiamo tempo su queste cose qui nelle slide quindi si possono inserire come unicode characters in javascript e così via piuttosto che string eccetera un'ultima indicazione possiamo anche andare a inserire proprietà che vengono poi mappate da react in diciamo attributi che compariranno nel dom quindi nel dom vero del browser quindi in generale possiamo avere qualsiasi nome di proprietà di cui abbiamo bisogno quindi decidiamo noi come programmatori quali nomi dare alle nostre proprietà però è possibile aggiungere proprietà di tipo custom diciamo così con il prefisso data trattino quindi ovviamente possiamo utilizzare le proprietà predefinite anche dei nodi dom chiaramente conoscendone il nome per esempio c'è il value sul button predefinito e così via quindi primo è un esempio generico è un componente react nostro e quindi abbiamo decidito noi quali sono le proprietà il secondo è un button quindi è un nodo dom e quindi avrà una serie di proprietà predefinite e quindi chiaramente non possiamo aggiungere delle proprietà in questa maniera perché altrimenti react non saprebbe più non capirebbe che sono sostanzialmente proprietà che vogliamo aggiungere per conto nostro piuttosto che proprietà che devono essere sul nodo dom noi invece possiamo aggiungerle facendo però attenzione ad usare la sintassi della questa sintassi cioè mettendo un prefisso sostanzialmente davanti al nome della proprietà e questo diciamo ci consente di aggiungere tali proprietà anche nel caso di nodi dom siamo quindi arrivati ai componenti react e quindi nella prossima parte della lezione metteremo tutto insieme e cominceremo a provare a scrivere qualche componente e vedere come metterli insieme proprio a livello pratico